In appena un anno è salito agli onori della cronaca, affermandosi come uno dei talenti più cristallini del poker internazionale. E con due vittorie all'Italian Poker Tour, un titolo Russian Poker Tour, un braccialetto Gussop e il terzo posto al Partouche, Oleski Kovalchuk ha già messo da parte qualcosa come un milione e 800 mila dollari. Conosciamolo meglio! Il mio primo visito all'Italian Poker Tour era in settembre. Io ero in Europa e io e i miei amici decidi venire a Novogorica e prendere parte in questo tournament. Mi piaceva il tournament molto perché è una buona organizazione e Novogorica è una fantastica città. Il tournament sembrava molto bene per me. Io potrei venire e dopo questa vittoria visitare l'Italian Poker Tour è una tradizione. Io non credo che sia un segretto. Io sono tranquillamente sul tavolo perché avevo un carattore. Mi ricordo una situazione, una momenta della mia vita. Io ero in WSOP final tavolo. Il porto era 4-10-jack-8 e io ero all-in con un set di forti e il mio obiettivo aveva un set di jacks a il porto erano 60% di tutti i soldi all over il torna era il final di table, double SFP e io ero un out, un out in il deck il forti arrivano al river e dopo questo momento credo che non mi ha fatto sorprendere in un pocchio posso aspettare per fare una buona mano ma a volte, se la situazione è possibile, posso andare all in con un pocchio e credo che molti giocatori sono freddo di me oggi quando mi mostro il 4 era un piccolo e un grande blinde quindi racedo, racedo, era un agressivo giocatore io lo conosco, ho fatto 4 bet e poi ho fatto 5 bet, immediatamente ho fatto 12.5, ho fatto 25.000 e ho fatto immediatamente avevamo aces o kings ho pensato a questo ho pensato a capire ho pensato a capire più di me ma ho fatto immediatamente e dopo questo ho deciso di fare 6 bet ho fatto 6 4 sui e ho mostro il 4 ho fatto un sentimento che non aveva nulla non ho raccontato questo, ho fatto un sentimento ho pensato a capire e uno di questi è molto conosciuto in USA è Anton Mokievski, che era 9 novembre è un gioco per noi perché il nostro bankroll è un gioco per il nostro bankroll e magari è un gioco 500 ma è un gioco Ciao Piurelli!